100 minuti, 100 minuti di Sevilla-Roma, 100 minuti di superiorità spagnola. Sono innanzitutto dispiaciuto, è ovvio, perché è scena italiana, e poi sono anche un po' deluso, sono anche francamente un po' deluso, perché non mi aspettavo, non mi aspettavo sta differenza netta. Ecco, un po' il giocatore della Roma sono stati... sono stati un pochettino amareggiati anche per quanto riguarda l'arbitraggio, ma io dico un'altra roba, il problema l'ho enunciato, l'ho detto più volte, il problema è che noi in Italia siamo abituati male, siamo abituati troppo male, al minimo tocco ci fischiano tutto, forse è vero, attenzione, forse è vero, si è passati da un eccesso all'altro, se vogliamo, ci sono alcuni interventi che vanno fischiati, e sicuramente sì, e ci si può anche recriminare, anche ieri, l'ho vista la partita di ieri, ieri anche fa legnami, anche proprio fa legnami, però in Europa funziona così, lo devi mettere in conto, proprio perché lo devi mettere in conto, io ho già detto a più riprese, in Italia dobbiamo cercare di arbitrare, di avere un metro arbitrare diverso, perché poi facciamo fatica, perché poi facciamo tanta, ma tanta, ma tanta fatica, perché siamo lì a cercare contatto, siamo lì a cercare di buttarci a terra, cerchiamo di cadere alla minima occasione, e fai fatica, e fai fatica, fai fatica, perché sembra così, ma ha, ha la sua, c'è una differenza che ti comporta anche a, ti comporta in qualche modo anche a degli episodi poi, perché se tu ti aspetti un fallo e ragioni in quel senso, e poi magari ci becchi il contropiede, cioè ti cambia, ti cambia, perciò dico abituiamoci, abituiamoci, ripeto, in Italia siamo vittime di un metro arbitrale che non va bene, che non va bene, poi qua magari, sì ribadisco, può essere, può essere vero, che qua si passa da un'esagerazione all'altro, ma in Italia non va bene, ma in Italia non va bene, e questa è la controprova, quella di stasera è la controprova, ma, poi ho fatto sta premessa del discorso arbitrale, ma poi l'arbitraggio con il risultato finale non conta una mazza, quando parlo di un Sevilla superiore, lo dicono infatti, non è che lo dico io, la Roma ha creato poco o nulla, dall'altra parte solo andando a valutarla ai punti, solo andando a valutarla ai punti, e giustamente voi mi dite, ma è calcio, non è box, sicuramente, ma io vi dico che questi qua hanno fatto due gol, hanno preso due legni, gli è stato annullato un gol proprio in questione di centimetri, e anche qualche altra svariata occasione da gol che non ci mai metto, non ce la proprio metto, ma già analizzata così, cioè, Sevilla padrone del campo, Sevilla padrone del campo, padrone del centro campo, poi tra l'altro, a proposito del centro campo, emerge un giocatore su tutti, credo un certo Eberba Negra, perché se scorrete e andate e avvolgete veramente il nastro dei miei precedenti video, ma parliamo di anni e anni, dovrebbe esserci anche qualche video in cui dico che mi dispiaceva tantissimo, ma veramente tanto perderlo, perché Eberba Negra poi si dice in un'Inter disastrosa del 2016, dove cambiamo tre anni allenatore, si dice che non abbia brillato, ma vediamo qual era il contesto, vediamo qual era il contesto, e vediamo cosa hanno fatti i suoi compagni di squadra, forse in quella Inter solo Icardi fece meglio di Banega, Icardi forse all'epoca anche Peris ci andano, ovviamente, però vediamo e valutiamo il contesto, Banega è un giocatore che gioca la palla, al piedino, ha angoli, punizioni, visione di gioco, ti dà i tempi, io ricordo dove doveva partire o lui o Gio Mario, giustamente parte lui, perché poi a lui l'avevamo preso a zero, abbiamo fatto un po' di plus valenza, e giustamente parte lui, l'anculatura, scusate il gioco, ma che giocatore, un giocatore che è bello, 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 c'è poco da dire, che bel centrocampista, niente, sicuramente l'assenza di Smalling, vero e tu, magari hanno fatto sì, che in modo netto ci sia stata differenza, ma vado ad analizzare anche i due gol, i due gol credo siano entrambi gravi, siano entrambi errori abbastanza stupidi, basilari, il primo guai, il primo guai ad imputare tutte le colpe a Paolo Lopez, sì, c'è anche l'errore di Paolo Lopez, assolutamente sì, è una grande pappera tra l'altro, però ricordiamoci che Righion, quasi ormai uno contro uno, ha tirato male Righion, e conseguentemente poteva prenderlo a Paolo Lopez, ma se Righion tira bene, ti segna lo stesso, il problema è che Righion è andato via due, il problema è che Banega si è impostato, ha cambiato gioco, come ha fatto per tutta la gara, cambio palla, cambio gioco, e ha preso Righion, che va via a Bruno Perez, e va via nei tempi, anche a chi è il difensore? Ibanez, ibanez è disastroso, peggiori in campo, ibanez è esaltato, bravo, bel giovane, poi arrivi a fare queste partite, tanto lui quanto un altro giovane da cui si attendeva tanto, Zagnolo, male, male purtroppo, male, forse ancora non sono pronti a queste competizioni, non lo so, ma ibanez è male lì, che anche lui si fa prendere il tempo, e dà modo a Righion di andare al tiro, secondo gol, stessa roba, Dzeko, spinto, non spinto, fallo, non fallo, va bene, facciamo finta che lì l'arbitro, facciamo anche finta che l'arbitro abbia sbagliato, e magari andava interrotto il gioco, ma il gioco va avanti, comunque, il gioco va avanti, comunque c'è l'esterno, che se non sbaglio è Ocampos, lì che va via in velocità, Ocampos, Ocampos, che è in una posizione delineata del campo, non è che va tu per tu col portiere, è in una posizione delineata, ibanez lì deve fare una cosa semplicissima, lì deve attendere, e invece ibanez va in scivolata, non la prende, e si trova scoperta da Roma, ma se lì ibanez attende, da modo di rientrare, perché tutti gli altri giocatori della Roma, poi potevano vinculare, stavano tornando, lì dai modo di rientrare, e ti posizioni, poi uno ti viene a fare il raddoppio, e la riprendi la palla, o comunque non sei scoperto, invece no, lì, che serve, vai a voto in quel modo, se hai in ritardo, vai in scivolata così, è un altro errore, sono due errori individuali, che poi ci perde la partita, e c'è poco da dire, c'è poco da aggiungere, e a questi livelli, non puoi commettere, non puoi commettere questi errori qua, sono clamorosi, sono clamorosi, sono errori clamorosi, questo è il punto, ma, tattico non tattico, c'è anche appunto, una questione di qualità tecnica, credo che le squadre, ecco, ecco la mia delusione, ho visto troppo differenza, tra le due squadre, e non me l'aspettavo, onestamente, devo essere sincero, non me l'aspettavo, vabbè, ragazzi, questo è quello che ho visto io, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se vi va, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, da Neschi,